Disney Junior presenta i magici momenti di Dottoressa Peluche Itcio appiccicaticcio resta fuori al freddo nella neve e così non riesce più ad allungare le sue braccia Dotti deve trovare al più presto la cura giusta Ti metterò nella vasca con l'acqua calda così guarirai dalla congelite sostanzite Sei pronto? Certo Dotti, facciamolo subito Oh, che piacevole sensazione, mi sento già molto meglio Oh, grazie Dotti e grazie a voi amici, grazie per aver riscaldato le mie braccia e avermi scaldato il cuore Siamo tanto felici che tu ti senta meglio Come potrò mai ringraziarvi? Aspetta, lo so! Signore, dottori e gentili giocattoli di tutte le età, accorrete tutti! Radunatevi e ammirate il mio fantastico, spettacolare e straordinario numero della vasca! Non sto più nella parla! Molto bene! Sì! Questo è stato eccezionale! Ma aspettate, non è finita! Non avete ancora visto il mio super mega tuffo girandola! Brava, Itzo! Sì! Sei stato magnifico, Itzo! È stato fantastico! Sì! Grazie, grazie amici! Grazie di cuore! Sei la stella più super super fantastica che questo bagno abbia mai visto! Oh, ti ringrazio, Bianchina! E grazie a te, Dotti, per avermi curato e avermi permesso di tornare a seguire i miei sogni! Oh, di niente, Itzo! Assicurarmi che tutti i miei giocattoli siano in salute super fantastici è il mio sogno! Dotti, con un bel bagno caldo, riesce a far ritornare Itzo appiccicaticcio super elastico e in forma come prima! Continua a guardare i magici momenti e non perdere Dottoressa Peluche su Disney Junior! Clicca sullo schermo per vedere altri video e vai su Disney Junior per seguire i tuoi programmi preferiti!